Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Scusate per l'attesa perché comunque da un po' che praticamente non ho fatto più video però non sono stata bene Adesso sto molto meglio quindi ho detto faccio il video E quindi vi dirò praticamente in questo video come ho scoperto l'esistenza di questa splendida serie Perché non ne avevo mai parlato in realtà E quindi ho detto faccio un video del genere anche se è un video un po' diverso dal solito Perché non ha importanza come l'ho scoperta ma ha importanza che mi è piaciuta più che altro Praticamente l'ho scoperta per caso in realtà senza che nessuno mi avesse detto nulla Era praticamente... mi ero appena diplomata da scuola e io stavo praticamente in camera Per passare un po' di tempo vedo se si fa qualcosa in televisione E scorrendo i canali ho trovato appunto siccome io ragazzi nonostante l'età adoro i cartoni animati Ho detto metto praticamente un canale dove trasmettono i cartoni animati E ho visto che appunto che stavano trasmettendo un episodio Non chiedetemi il titolo ragazzi perché lo so che sono un'appassionata di questa serie Però il titolo non me lo ricordo Posso soltanto dire che era un episodio della prima serie in fondo perché mi ero diplomata appena Quindi non ancora esisteva la seconda stagione in realtà Quell'episodio dove praticamente c'era Praticamente quel drago grande Che era tipo Oddio ragazzi C'è un problema Credo di aver dimenticato l'episodio No questo non deve succedere Vediamo Vabbè comunque io mi ricordo che c'era questo drago grande Che Che praticamente Come dormiva Sì come dormiva credo che dormiva E metteva appunto questo fumo E che quindi le protagoniste Oddio Non vorrei dire una cosa per un'altra Sono andate appunto Da lui A dire Se poteva andare da un'altra parte Io lo ricordo così ragazzi Perché se è un episodio della prima stagione Io non lo guardo da un'eternità Perché stavano sempre ogni anno Sempre con nuovi episodi Sempre con nuovi episodi Quindi alla fine Quelli della prima stagione Chi si è visto si è visto Comunque doveva essere tipo Il sesto Il settimo episodio Della prima stagione Quindi proprio all'inizio Inizio inizio E praticamente Mi ha colpito Non lo so perché Mi ha colpito Però mi ha colpito E da allora ho cominciato a vedere Praticamente La serie Anche se Tecnicamente Quando uno guarda la serie Di solito La guardi dall'inizio Però io Praticamente È chiaro che Avendo visto Per prima Il sesto O il settimo episodio Ma non mi ricordo Ho dovuto aspettare Ho dovuto aspettare un po' Prima di vedere Proprio l'inizio Praticamente Però mi ha colpito molto Perché comunque È un cartone animato Che ti insegna Veramente Cos'è l'amicizia Che l'amicizia Non è sfruttare Gli altri Ma l'amicizia È un qualcosa Che Appunto Che viene dal cuore Ti insegna Cosa e rispetto Ti insegna Praticamente Tutto Al di là del fatto Che quando Ho visto Quella cosa Quell'episodio Avevo 20 anni Compiuti Di solito Uno si immagina Una ragazza di 20 anni Non le guarda Certe cose Ma non è vero Non è assolutamente vero C'è stato chi Mi ha detto Ah ma tu sei Un po' immatura Perché guardi Ancora Cartone animati Oltretutto Cartone animati Proprio per bambini piccoli Ma io posso assicurare Che non è vero Non è assolutamente vero Perché guardare Un cartone animato Non è sinonimo Di essere immatura Perché io posso Guardare Il cartone animato Però allo stesso tempo Poter avere Una mia famiglia Ed essere una madre Per esempio Non significa nulla Assolutamente nulla Anche perché Se io ho questa passione Perché ci devo rinunciare No Allora A me mi è dispiaciuto Un sacco Quando hanno detto La nona stagione E l'ultima Praticamente Dell'intera serie Però Poi è successo Che hanno detto Comunque che Avrebbero fatto Una nuova generazione E tutto quanto Io sono rimasta contenta La nuova generazione Ho dato un'occhiata Devo dire Che mi piacciono Come episodi Però non riguardo Come guardavo L'altra Perché Comunque È un periodo Che ho sempre da fare Sempre da fare Quindi non ho tempo Veramente Per guardare Appunto Gli episodi Senza contare Che comunque Per quel che ho potuto vedere Li fanno In America Per ora Però non è come Quando guardavi Diciamo La generazione Scorsa In cui Ti collegavi Tramite un sito E potevi Vederlo in diretta Lì Deve aspettare Che lo pubblicano Però pare che Pare che comunque Ci sono delle regole Ben precise Dice che Appunto Che Infatti Per vedere Il primo episodio Mi ricordo Che non lo riuscivo A trovare Proprio perché Nessuno Poteva pubblicarlo Per non ricevere Dei richiami Però poi Alla fine Sono riuscita A trovarlo Ugale E l'ho visto C'è per di Quindi secondo me Conviene che aspetto Che la serie Questa nuova serie Arrivi in Italia Più in là Non so se Domani Dopodomani Ho intenzione Di fare Un altro video In cui vi spiegherò Vi dirò Cosa penso Io di questa Nuova generazione Perché altrimenti Se ne parlo In questo video Il video Comincia a perdere Di significato Quindi questo video È stato un video Così Diciamo così Quindi Se questo video Vi è piaciuto Mettete un pollice In su E se non siete Ancora iscritti Sul canale Fatelo Se non volete Perdere altri video Ciao ragazzi